Consulenze gratuite qui presso l'Associazione Farm e Benessere ed il Centro Servizi Assistenziali Il Faro. Oggi abbiamo parlato di nutrizione con me la dottoressa Zaira Senatore. Abbiamo fatto molte consulenze. Come sono andate e quanto è importante poi parlare di alimentazione con le persone? Oggi è andato piuttosto bene. Le persone che ho incontrato mi hanno parlato ovviamente delle loro problematiche e io ho dato dei giusti consigli da seguire, soprattutto le indicazioni che devono essere quelle preventive perché non dimentichiamo che la prevenzione avviene soprattutto a tavola. Quindi prevenire le patologie cardiovascolari avviene semplicemente con una sana e corretta alimentazione. Quindi alimentazione è il centro dello stile di vita, quindi l'importanza di una corretta alimentazione. Ovviamente potrete contattare Zaira attraverso i suoi recapiti o i recapiti social che troverete anche su questo video e su quelle che sono le pagine dell'Associazione Farm e Benessere. Zaira è uno dei soci fondatori di questa associazione. La ringraziamo tanto di essere stata qui con noi e ci diamo appuntamento alla prossima consulenza. Ciao! Ciao!